musica 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 bello a tutti ragazzi sono Alex e io sono Ghesius e oggi si riprende con my god allora oggi volevo andare tu sei dammi il tuo almeno te lo faccio come c'è? vado a prendere i mini diamanti io non so dove sono però e ci facciamo anche un piccione di diamante chiudi la porta aspetta faccio un piccione di diamante e me lo tengo io con il diamante che ho appreso quindi andiamo giù non corre non mi sta correndo e volevamo fare portare del nether perchè? perchè sono piccolo e quindi mi sono portato un piccione di diamante tra l'altro il mini l'ho trovato anche degli amanti non li ho raccolti per farmi vedere cioè quindi li ho raccolti quel quattro 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 sei giù e c'è anche il gioco ma con questo ma si può di farlo quanti quanti io 5 e 3 io ma non ci sono ma non è il risotto aspetta a parte che non abbiamo neanche torce san shimmy non siamo venuti giù ah no ce ne sono nella cesta vai prenderle allora cosa serve nella cesta non rimaniamo qua ecco capito il ferro qua fatto basta usciamo usciamo si è 39 ok vieni che io ci applico il diamante ah ma non vuole fare anche per me ci appliciamo il primo oh tu la spacchi quando ci pieghi spaccare l'ossigliano un po' non lo so dov'era l'ossigliano era era l'ultimo tunnel eccola non c'era sotto la lava vero si c'era sotto la lava e allora stavo a dire abbiamo preso se no non devi andare all'indietro devi andare dove sto andando di qui di qui della porta no vedo te quindi secondo te comunque abbiamo preso 17 prezzi di ossigliano e li ho presi tutti io veramente e quelle diamanti che abbiamo trovato è un cane oddio va bene questa resterà qua per sempre aaaaa il cavallo qua che mi osserva dalla finestra sturi ti osservo mentre torna perchè hai messo due tocci lì? non lo so perchè deve essere tutto semplice perfetto la via ascensore è comodo anche no la canata 3 eh va bene anche la canata esca questo hai buttato anche la canata esca però mi piace essere cauda per buttare giù cosa si un'altra di qua un'altra di qua un'altra di qua no non è simmetrico però si cazzo fa niente fa niente e mi dobbiamo sparcare tutta la città e come farebbe è impossibile farlo simmetrico ma se no faccio di uno faccio di uno se no cioè è di uno di uno si può fare si certo davvero si di qualsiasi piaccia si e voi potremmo farlo anche di tre allora vabbè dai fa niente fa niente è più figo di uno ahahah cioè questo sarebbe un portale non mi spieghi no no vado a prendere piccola ahahah ma no ma giuro no perchè non ha funzionato? non lo so facciamolo di tre al massimo tra uno allora no simon tra uno andiamo vai mettici tutto aspetta ma perchè metti giù? perchè perchè moriamo? ma perchè io non muoio? no andiamo e ma perchè dove muoio? metti giù io vado metti giù no metti giù mettici tutto e ti prego ti prego è vero oddio via ciao guardiamoci guardiamoci no perchè perchè me no oh no 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 via 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 dove siamo? nel mezzo sotto su sotto gritto gas 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 domanda ma è deficiente cosa no si muove già una fortezza non ci credo perchè sono due porte occo per lontano come se tu per proteggere sono attaccato per io con il mio gioco seguire il gioco molto bello molto bello molto bello adesso vorrei accendere portare grazie e morire per cento facciamo il centro non riporterò mai non ci riporterò mai non ci riporterò mai qua se io ritorno e se io non ritorno di riacciati e non ci riporterà mai in quel luogo di luogo perchè è spento col portarello non ho la fortezza orecchia orecchia ci siamo qua non ci siamo qua si io ho io ho un altro portale vedi non è acceso quello e se ne prendessi un accendino sai che è in legno quella cosa lì quindi co what è finito cosa nooo arrivi qualcosa dietro no è un piccone ma la luce ha perso vabbè tanto vabbè c'è un guida che mi insegna dove devo andare io oddio c'è un cosino guarda mi rispondo guardalo io dove devo andare non vedo io tipo oddio ma non c'è qualcosa questo è sul portale è sul portale è sul portale ah da lì si è spavolati non c'ha non c'ha è riemparsa l'hai riemparsa l'ho visto boh alle guida mi ti prego dove sono sei giusto vabbè intanto metto giù questa nager e basta eh sì ma io sono vaffanculo eh non so dove andare dammi mettilo giù che io ti prometto dammi ogni volta ti darò una mappa nuova ma non sono lì eh sì lo so eh eh metto giù dove ogni volta ci darò i tesori lo metto giù eh cosa ma non lo so metterla dove vuoi ma io direi che ci dobbiamo fare un'armatura perché ci abbiamo un albero in casa eh che dici ci facciamo un'armatura vuoi andare adesso o nel prossimo episodio quindi ragazzi se il video vi è piaciuto commento mettete aspetta lo so ah eh vabbè mettete il mi piace iscrivete noi ci vediamo nel prossimo video dopo probabilmente moriremo nell'era quindi sì bella ragazzi come abbiamo già fatto ho una metafora che penso si possa chiamare metafora sai quando tipo rompi il vetro e chiamare per farlo aggiustare rapidamente sì ecco noi non potevamo non riuscivamo a fare il dungeon e abbiamo chiamato Squid Zero eh sì eh ragazzi c'è perché se non chiami Squid Zero Zero sei un coglione diciamo che quindi Squid Zero uguale Carglass WTF vabbè l'ultima parte è forse un po' più confusa però va bene lo stesso qui è